Parliamo di Marcel Duchel. Altro film candidato agli Oscar, questa volta per la categoria miglior film d'animazione, e proprio come Gli Spiriti dell'Isola, probabilmente anche questo non l'avrei visto se non fosse stato candidato agli Oscar di quest'anno. Anche perché in realtà non è esattamente il mio tipo di film, sì, stiamo parlando di un film d'animazione in stop motion, anche se di stop motion c'è solo il protagonista e gli altri esserini simili a lui, quindi queste conchigliette con gli occhi e le scarpe. E poi il resto è realmente ripreso, quindi un film in live action, possiamo dire, ma sono comunque rimasto contento di aver recuperato questo film, cosa che, ripeto, non avrei fatto. Fa un po' strano in realtà vederlo candidato come miglior film assieme, non so, a Red o Pinocchio, un altro film comunque in stop motion, ma nettamente diverso da questo, perché, ripeto, le uniche cose animate sono questi piccoli esserini, queste piccole conchiglie, realizzate comunque con una stampante 3D, sono state realizzate 120 copie solo di Marcel, sono informazioni che ho trovato online, così, dopo aver visto il film, e ho trovato anche qualche informazione riguardo proprio il progetto. A quanto pare non è un progetto originale al 100%, perché è tratto da dei cortometraggi famosi, diventati famosi almeno in America qualche anno fa, realizzati proprio dal regista di questo film, ovvero Dean Flasher Camp, se non sbaglio si chiama così, che sarà anche il regista del remake live action di Lilo e Stitch, in arrivo il prossimo anno su Disney+, e, ripeto, appunto, Dean Flasher Camp, regista anche di questo film, interpreta se stesso, ovvero questo regista alle prime armi, regista di documentare alle prime armi, che trova questa piccola conchiglia nella casa in cui si è trasferito, che è una casa ormai diventata B&B, e decide, appunto, di realizzare queste interviste e pubblicarle proprio su YouTube, quindi è più o meno la stessa cosa dei cortometraggi. I cortometraggi, proprio come questo film, erano realizzati in collaborazione con l'allora moglie di Flasher Camp, ovvero Jenny Slate, che sicuramente avrete visto in qualche film. Io, sfortunatamente, la ricordo soprattutto per Venom, ma la troviamo anche in una piccola comparsa in Everything, Everywhere, All at Once. E, oltre ad essere produttrice, è anche Voce stessa di Marcel. Io il film, naturalmente, l'ho visto doppiato, essendo in sala, quindi non posso giudicare al 100% Jenny Slate. Fatto sta che, comunque, non mi aspettavo assolutamente un film del genere. Sì, non è che sia questo grand che, infatti, non penso che vincerà gli Oscar, e non voglio neanche che vinca gli Oscar, perché, dall'altra parte, abbiamo, appunto, un Red, o un Pinocchio, che, secondo me, si meritano molto di più, la statuetta come miglior film d'animazione del 2022. E, sinceramente, credo che questo Marcel de Schelles sia stato messo un po' a caso, lì nella categoria. Sicuramente è una cosa davvero buona per il regista, per farsi conoscere, anche se è già stato scelto proprio da Disney per, ripeto, il live action di Lilo e Stitch, ma lo vedo un po' in quella categoria come un pesce fuor d'acqua, meglio, una conchiglia fuor d'acqua. Detto questo, comunque, il film mi è piaciuto, non è male, anzi, scorre bene, è molto rilassante, ok, questo posso dirvelo, anche se c'è una netta differenza tra la prima parte e la seconda, quella prima, quella principale, la prima parte è molto più rilassante, mentre la seconda, dove iniziano tutti i cambiamenti nelle vite dei protagonisti, che alla fine sono tre, uno umano, appunto, Dean, che non si vede, parla solamente e in teoria non dovrebbe neanche parlare secondo quel che dice lui, e poi gli altri due sono proprio Marcel e la nonna, di cui non ricordo il nome adesso, ma che appunto è un'altra conchiglia. È interessante vedere il modo in cui questi piccoli personaggi si ambientano in una casa enorme, perché alla fine vivono lì, quindi cercano di adattarsi il più possibile con l'ambiente circostante, costruendo robe, soprattutto Marcel, la conchiglia anziana si occupa solamente di giardinaggio e di curare gli insetti, li usa come animali domestici, infatti, se non sbaglio, prende un'apel, aggiusta le ali, fa robe, comunque non si occupa di creare marchi ingegni per vivere al meglio, cosa che appunto fa Marcel per arrivare in certe parti della casa, cosa che sarebbe impossibile per una piccola conchiglia, comunque, è interessante, questo sì. Poi la storia che procede, quindi, con Marcel, che sfrutta nel miglior senso, più positivo possibile della parola, questa opportunità di diventare famoso con questi cortometraggi, queste interviste fatte da questo Dean, sfrutta questa possibilità per ritrovare la sua famiglia persa a causa di un incidente, se possiamo chiamarlo così, avvenuto qualche anno prima, ovvero la famiglia, la coppia di persone che abitava in quella casa si è, aveva avuto un litigio molto importante, tanto che uno dei due si è allontanato dalla casa portando tutti i vestiti, tutti, tutti, soprattutto i calzini vengono nominati, perché era lì che si nascondevano queste conchiglie nel cassetto dei calzini e quindi, portando via i calzini con sé, ha portato tutta la famiglia di Marcel via, lasciando, appunto, lo stesso Marcel e la nonna. A livello di trama non andrò avanti perché potrei tranquillamente incorrere in spoiler, non dirò se riuscirà effettivamente a trovare la famiglia oppure no, vi consiglio comunque di recuperare il film perché se vi piacciono questo genere di film, un po' fuori dal coro perché lo trovo molto diverso da, non so, gli altri film d'animazione proposti o anche solo molti dei film in generale proposti quest'anno. Ha un non so che di Wes Anderson, tutto sommato, e la cosa non mi dispiace affatto anche perché, appunto, i film di Anderson mi rilassano, per lo più. Chiudendo comunque questa breve recensione, non mi soffermerò in una parte spoiler perché penso sia abbastanza inutile, visto che comunque ho detto più o meno tutti i miei pensieri riguardo il film in questa parte. È un film carino, secondo me non si sarebbe meritato la candidatura nonostante il suo essere così diverso. È anche carino nell'essere così diverso, ma forse anche un po' sopravvalutato dalla critica. Ho letto qualche recensione dalla critica americana e, secondo me, è stato un po' sopravvalutato. In ogni caso, dicevo, chiudendo, vorrei parlarvi del finale dicendo che, appunto, dà la possibilità a molte persone di capire anche il potere di internet, dei social. Tra l'altro mi fa un po' sorridere il fatto che nessuno si stupisca al 100% di una conchiglia con un occhio, con le scarpe, che parla, che si muove, ma diventi famoso solo perché è carino, alla fine. Cioè, la cosa divertente è che diventa famoso solo perché è così tanto carino, non perché è un qualcosa che non dovrebbe esistere. Il finale, comunque, ripeto, nasconde diverse morali. Alcune volte a un certo pubblico, altre ad un altro, quindi un film per tutti, tutto sommato. Forse però, avendo un ritmo abbastanza lento, con pochi colori a schermo, un bambino potrebbe annoiarsi. Ci sono delle scene molto, molto lente. Essendo anche un mockumentary, quindi, ripeto, un falso documentario, la camera è a mano, ci sono tanti movimenti, ma quello che succede è molto, molto lento. Cosa che a me, ripeto, rende il tutto più rilassante, mi dà, comunque, tranquillità. Voglio continuare a guardare quello che sto guardando, ma un bambino, magari, che si aspetta questa conchiglia che inizia a saltare, che inizia a spruzzare colori da tutte le parti, ecco, non è questo genere di film. Però, per quel che è presente e quello a cui vuole arrivare, secondo me, anche i bambini dovrebbero guardarlo. Ripeto, Marcel Deschels promosso, tra l'altro, è un film dell'A24, e quest'anno agli Oscar l'A24 ha sbancato, perché ci sono tantissimi film prodotti da questa casa di produzione per lo più nuova, diciamo. Si sta sentendo nell'ultimo periodo, ma esiste da qualche anno. Abbiamo, proprio, appunto, Marcel Deschels, abbiamo The Whale, che non vedo l'ora di vedere, assolutamente. Abbiamo poi Everything Everywhere All At Once, che quasi sicuramente vincerà più di un Oscar, forse anche il miglior film. Secondo me non si merita il miglior film, nonostante io abbia amato quel, appunto, Everything Everywhere All At Once. E se devo essere sincero, mi fa piacere che l'A24 stia arrivando a questi livelli, anche perché solitamente producono roba che mi piace. Io ho visto sia X, a Sexy Horror Story, voglio vedere Pearl, sono curioso di vedere Pearl, sono film che comunque, quelli dell'A24, sono film che comunque mi intrattengono molto. Ne ho la riprova con questi film candidati quest'anno, non vedo l'ora, ripeto, di vedere The Whale, soprattutto per Brendan Fraser. Ma ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate voi di Marcel Deschels. Tra l'altro il titolo originale è un po' più lunghetto, c'è scritto Marcel Deschels with shoes on, quindi con le scarpe. Marcel la conchiglia con le scarpe. Fatemi sapere se il film vi è piaciuto oppure no, se l'avete trovato rilassante come l'ho trovato io, se vi è piaciuta la morale finale, ripeto, non ci sarà una parte spoiler, perché la credo abbastanza inutile, comunque superflua in un video del genere. Vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link per supportarmi, sia sugli altri social che i link di Pampling del Fantasia Store con rispettivi codici, il Pensiero 4 per avere un paio di calze gratis e Andri 5 per avere il 5% di sconto su tutti i Funko Pop, su tutti i prodotti del sito non già scontati. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale, Andri passa e chiude. Ciao! Ciao! Grazie a tutti